Ciao a tutti ragazzi, qui è FortodeGamer e questo è davvero il video della mia sensibilità Ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno dell'item shop Nella sezione supporto a un creatore, inserire il codice creatore Fortu così come vedete a schermo Poi accettare e da ora ogni acquisto che farete mi darà una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Ah ragazzi, quanto lo stavo di aspettare? Da qua? Quanti mesi fa ho detto che avrei fatto il video della sensibilità E finalmente, finalmente è qui Vi dico da subito, anzi vi chiedo ragazzi di raggiungere 2500 like Perché se questo video vi piacerà, io non solo porterò il video della sensibilità come oggi Ma vi farò anche un piccolo tutorial su come utilizzare il controller PS5 in claw Ovvero quella presa un po' particolare, insomma come vi fece vedere i tempi anche con un altro video Quindi 2500 like, vi voglio tutti pronti Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina perché arriveranno altri video di questo genere Direi di non perderci ancora in chiacchiere e di andare su Fortnite Ecco qua, allora ragazzi siamo nella lobby preparatoria Tra l'altro è tema natalizio, io amo un sacco Fortnite quando è Natale Allora, quindi andiamo nella settings, io ragazzi ho il gioco in inglese Anzi quasi quasi ve lo metto in italiano, dai così riuscite a prendere meglio tutte le impostazioni e cose varie Questa è la mia grafica, luminosità 100, contrasto interfaccia 1, daltonismo deuteranopia 4 Motion blur no e mostra FPS sì Vi ricordo ragazzi che io sto giocando su una PS5, se non si fosse capito L'ho detto già all'inizio però per sicurezza lo ribadisco Io sto utilizzando PS5 Allora, vabbè queste cose ve le faccio vedere velocemente Se volete poi vedere nello specifico ragazzi magari le fermate Non vi voglio, diciamo, non voglio passarci tanto tempo perché queste cose non sono importantissime Qui nell'interfaccia ragazzi ho scala interfaccia 90 E poi tengo attivate le impostazioni per vedere il ping mentre gioco E qui arriva quello che ci interessa Allora, corsa automatica la tengo impostata, cioè predefinita fondamentalmente Quindi se corro, corro direttamente Poi, vabbè, vi lascio vedere un po' di cose Vibrazione no ragazzi, lo so che è bruttissimo non avere la vibrazione sul controller PS5 Ma raga, ma io non ce la faccio Veramente la vibrazione è qualcosa che non sopporto Poi, cosa che ci interessa un po' di più Moltiplicatore sensibilità in costruzione Moltiplicatore sensibilità in modalità modifica 2.1 e 2.2 Uso le impostazioni avanzate di mira ragazzi, assolutamente E ho velocità orizzontale visuale 40% Velocità verticale visuale 35% Accelerazioni varie ragazzi, tutte a 0 secondi 0% Accelerazione immediata 0, no, niente Poi, velocità orizzontale della visuale con mirino 10% Verticale e orizzontale, stessa cosa Poi 0, 0, accelerazione ragazzi, non mettetela Ve lo consiglio Siate reattivi nei movimenti Sensibilità visuale Tempo di smorzamento visuale 0,05 secondi Guarda la curva di comando, tengo lineare Intensità mira assistita a 100 ragazzi Non mi interessa, dite quello che volete, io la tengo a 100 La torrò sempre a 100 Poi, parte molto interessante questa Zona morta 10 e 13% Sul controller PS5 ragazzi Ho visto che la zona morta predefinita è molto alta E questo non vi permette di giocare bene Quindi forse questa è la impostazione più importante da fare Specialmente se avete un controller PS5 Finalmente ragazzi, quello che vi può un po' più interessare Io sinceramente non saprei dove spostare la mia gamma Quasi quasi ragazzi, la levo un secondo, vi dico semplicemente le cose più importanti Io non modifico con cerchio Entro solo nella modalità modifica con cerchio Modifico con triangolo E prendo il piccone con il touchpad E la mappa con la freccetta destra Velocemente passiamo anche ai comandi di costruzione Utilizzo, vabbè, professionista della costruzione Con alcuni cambiamenti Velocemente vi faccio vedere anche la modifica comandi Ripristino con L1 E seleziono con R1 Confermo invece con triangolo E questo è quanto ragazzoli Queste sono finalmente le mie sensibilità Ma qualcuno potrebbe chiedersi Porto, ma vanno davvero bene? Funzionano davvero? Ti rendono più forte? Beh, allora andiamo in game e proviamolo assieme Che dite? Boys Lazy Con Ale Devo mostrarvi in un game cercando di vincerlo Che effettivamente la sensibilità che vi ho fatto vedere Ha senso, funziona Quindi vediamo se ci riesco Nel caso ragazzi, tutto fake La mia sensibilità non funziona Oh, tengo un tizio proprio di fronte Che sparerò con una pistola Sperando che non mi elimini Ok, eliminato Fantastico Anche se credo a dirla tutta Che non avremo problemi Perché ho la vaga impressione Dimmi che questo non sei tu Ok Perfetto, ha senso Bella Un altro di un altro team Fantastico Ok Un peperoncino frate Guarda, te lascio una Oh Vai, vai Pugliate, fatti il peperoncino Possiamo andare a pushare volendo Finché abbiamo il peperoncino attivo Ci abbiamo praticamente degli superpoteri Sono esti bro Wow, frate, sta qua Se lo prendi da sotto è morto Vai, vai Dai, dai Vabbè, ho fatto io Sta un'altra bozza grande No, no, no Arriva, arriva, arriva Dammi il tempo Dammi il tempo Dammi il tempo Ci sono Mamma mia Una terra Ok Vai bloccati Bloccati sta dalla finestra Quindi sta attento Facciamoci il giro Una cosa veloce Che a breve finirebbe il peperoncino Se fate il giro Sparo 33 Prova a pushargli Mi è andata male 88 Madre di dio Se saliamo sul tetto ce li facciamo easy Stanno là Attenzione Dovrebbe andare a lutare 32 32 White Quello sulla destra è white Quello a sinistra no Prova a pushare Tu coprimi Tu coprimi Non ti preoccupare Coprimi Vai, vai Coprimi Vai A terra Aiutami con quest'altro Vai Ho 72 Mamma mia Frate GG Siamo abbastanza lontani Non vorrei che morissi Tranquil Tranquil Entriamo nella casa Allora Dal tetto Dal tetto Entra dal tetto Si sta a far il giro Si sta a far il giro Sta qua È un bot Non è un bot C'è il compagno Interroga Interroga Io ti chiudo Oh no no Dentro Ok Mamma mia Oh 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 Frate ci hanno pushato Sono qua di fronte Dietro alle macchine Ora muoio pure Quella umbrica Oh mi so Sono morto Mi faccio le splash Mi sa Complemento un po' Tac Dico io Braccio Tutti quanti Ma che cosa Mi credi Su tutto quello Che esiste Che io non ho capito Niente Mi sono visto morto Non fa niente Guardate che sono morto Oh Brava brava Attenzione Questi hanno le armi esotiche Strane Che ti congelano Ah sta Ah sta Ah sta 41 41 Attenzione Quello di essere il cieco 41 pure a quell'altro Però io vedo Vedo se riesco a raggirarli Io ci riesco Rado Io ci riesco Tu resta giù Resta giù Tranquil Che ora mi faccio il giro Una terra Bello Un altro dizio Un altro dizio Fred Un altro team E allora vengo da Teta Perché io mi sto attirando un altro team Non conviene Cerchiamo di entrare Dammi dammi Arrivo arrivo Copriti 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 Non morirmi Lo stavo Lo stavo perquisendo Morto morto Tranquillo Tranquillo Spero solo che non ti elimini Perché mi servi vivo Ok Vai Fran Andiamo Oddio 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 Sì 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 Ma no Ma sei un pazzo Ma quasi ucciso Ma no Che pazzo furioso Frate veramente Non morirmi Ti supplico Non morirmi Ok No frate no Ecco Ma come fai a chiuderti No 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 Stai pure la safe Frate entra in casa Entra subito in casa Appena ti rianimo No 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 Vabbè non ci credo Mamma mia frate No Stanno busciando frate Non so se te ne sei accorto Ma stanno in treno Non ho capito Ho paura che siano separati Capito che dico Sì ma stanno separati Ho capito che siano molto separati Ho paura che siamo uno contro uno Contro uno contro due Siamo ancora in cinque Vabbè Ma non mi conviene eliminare quello Non mi conviene sparare a quello Perché vuol dire quello da solo Ti conviene stare sopra Frate Lo so lo so Ti stringono Sta salendo Lo do Sta anche l'ora in due Ok Giovanni Fileccia Bella bro Uno contro uno Vabbè dai frate L'andata normale La prossima volta Dai entro qua Fra Devo far vedere che la mia sensibilità è bella E mi sa che ora muoio Wuuu Baby Cariata ma ci sta Se questo è quello che succede Se mettete la sensibilità di porto the game Guys Mi è uscito un game davvero molto interessante Veramente figo Ringrazio ancora Alessandro Per averci fatto compagnia In questa cringiata di partita Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Di attivare assolutamente la campanellina Seguirmi sul sito Viola In descrizione Dove porto le streaming In questi giorni un po' festivi Anche qualcuno in più Per giocare assieme a fortnite e altri giochi su ps5 E noi ragazzi Ci becchiamo Alla prossima